Ciao a tutti ragazzi, sono Pistone G60 Non sto camminando, eh, ve lo dico Non sto camminando Non ho i piedi per terra Ecco qua Ecco perché Ove parte Corri fino a 12 km orari, buono Però se vorrei fare quella salita non ci riuscirò mai Ovvio Questo è un regalo della comunione Però È quello più indeciso Perché l'altro non sapete che vi aspettate Guardatevi il video Ok ragazzi Adesso, guarda sono emozionato Adesso vi faccio vedere il mio regalo della comunione Eh, ve lo devo far vedere Pronti? 3 2 1 Aspetta, non si vede Guardate Qua Qua è il cambio Bella, vero? Qua è il contachilometri Le mance sono fatte così Le mance sono fatte così La vedo Qua contachilometri Ammortizzatori Freno a disco Pedali che l'altro giorno mi sono graffiato Ruota Ruota Questa è una bici da montagna Mountain bike Qua si può regolare pure l'ammortizzatore Guardate Questo è il regolatore Adesso lo lascio così E questo L'ammortizzatore Fa pure in base al peso Tipo se lo faccio così però non ci riesco perché è troppo tosto Lo sa fare mio padre Allora La borraccia L'ammortizzatore di dietro è molto bello Io l'ho sempre avuto Poi Una cosa che non avevo fatto caso E Che Qua Vedete queste aste Queste sono per cambiare Spostare indietro Io pensavo che era soltanto Il sedile Io pensavo che non erano niente Pensavo che era Per reggere Non lo so Questa è fatta in alluminio Pensavo in carbonio Però un po' pesante c'è Adesso mi devo imparare un po' Andarci perché Sono tipo 3-4 giorni che ce l'ho E Un po' grandicella Quindi Io vi volevo dire anche una cosa Dei vlog farò con questa Con La La copro qui Me la metto qua Sulle spalle E Volevo anche mettermi Quella là Che si mette sopra il casco però Ah oppure il calchetto Bello pure Quelle che si mettono sopra il casco Però Costano troppo 400 Una costava 500 euro Adesso non vedete niente Perché non si vede proprio niente Aspetta Porto il casco fuori Vedete? Sì Ecco il casco Fluo Bello Qua c'è pure la visiera Ce la posso togliere? Non lo so perché Quello di mio cugino Ci si toglie Penso E penso pure a questo Però È È tosto È duro È duro A levarlo Quindi Mi sto fermo Per sicurezza Vabbè Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Quando lo farò Non me lo chiedete proprio Va bene Per questo è tutto Ciao Ah I vlog li faccio lo stesso Non vi preoccupate Porto pure Xbox One E poi Come vi ho detto già Con la GoPro qui Vabbè Cose varie Ci vediamo nel prossimo video Bella raga Ditemi se vi piace